Siamo qui con mister gonsalvo due domande un attimo per la fine del della gara è una sconfitta che sicuramente brucia ma parlando puramente di tattica cos'è che oggi non ha funzionato rispetto al solito non l'abbiamo buttato dentro l'unica cosa che è andata è questa la squadra ha girato ci ha provato ci hanno provato bene loro sono sicuramente classifica e ce la dovevamo giocare così prossima domanda con questa sconfitta le partite perse in casa vostra salgono a quota 5 c'è una spiegazione per questo rendimento così negativo tra le mura domestiche non sappiamo noi affrontiamo le partite sempre al massimo poi vediamo quello che succede ne parleremo a settimana e vediamo quello che non è andato ultimissima domanda come giudica il girone ora che siamo giunti al giro di boa molto equilibrato molto equilibrato con poche squadre superiori alle altre i partiti sono fatti d'episodio grazie mille mister niente buonasera